bene allora piedi sul freno poi questo qui mettiamo in moto allora con questo metti le marce e con quello di là le levi ok quindi c'è scritto auto lì o normale dove dice le marce ok allora adesso dice prima si e non c'è scritto auto sotto no c'è scritto così andiamo con questo rimettiamo con quello di là non c'è Perchè? Allora, questa è la curva da seconda Vedete che c'è un dosso sulla sinistra Qui abbiamo un'altra curva da seconda Allora 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 Scala Scala con la sinistra Allora Ok, vai, gas Bene, adesso stai vicino al cordolo Allora 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 Allora